Swarovski Z8i, 1.8x24 reticolo 4aif più bt, non più il solito grandangolare per avere il massimo in ogni circostanza. I fattori essenziali ai quali ancora una volta Giova riferirsi sono però l'occhio e la testa di chi imbraccia questa o quell'arma. Nel corso di questo filmato avremo più di un'occasione per osservare quali possono essere gli effetti di una scelta piuttosto che un'altra in fatto di armi e di calibri. E da solo ciascuno di voi potrà le conclusioni e gli insegnamenti di ogni singolo caso. Eccolo! Eccolo! Occhio eh! Vai lillo! Vai lillo! Vai lillo! No! Va lillo! Va tutto! Vielle ruoga! Vielle ruota! Vielle ruota! Vielle ruota! Sto ferito eh, è ferito eh, certo che è ferito! Ancli in questa ultima! La situazione si è fortunosamente risolta nel migliore dei modi. Nonostante la sua consolidata esperienza, al canaio non è stato facile certamente scegliere il momento opportuno per premere il grilletto. Uno degli ausiliari è rimasto comunque offeso durante il confronto con il cinghiale, ma la ferita è leggera e non avrà conseguenze serie per il cane. Questo fatto sta però a dimostrare come la vicenda avrebbe potuto concludersi con esiti ben peggiori se l'azione non fosse stata condotta da cacciatori dotati di grande esperienza e di adeguata freddessa. Il piano di controllo è giunto alla sua naturale conclusione. Ci si avvia per recuperare i cinghiali abbattuti e ci si adopera per radunare i segugi che ancora non risultano all'appello. Il piano di controllo è giusto No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no!